Un viaggio nei luoghi più significativi del paese per promuovere lo sport come integrazione, benessere e come superamento delle barriere. Lo sport come diritto universale. Questo è il tema che verrà affrontato dal 5 al 7 novembre durante la seconda edizione del Festival della Cultura Paralimpica che per questa sua tappa ha scelto Padova. Dopo Roma tocca la Città del Santo che nel 2020 sarà anche capitale europea del volontariato e sede di una delle più antiche università del mondo. Perché il Festival Paralimpico ha come obiettivo quello di promuovere una cultura paralimpica, ovvero una cultura che si promuove attraverso lo sport paralimpico. E non potevamo non scegliere in questa occasione un luogo di formazione come un'università. Questo ha coinciso con gli 800 anni dell'Università di Padova, ha coinciso con un riconoscimento di Padova quale città, capitale europea del volontariato. La manifestazione propone una serie di convegni e incontri sul tema del cambiamento della percezione della disabilità. Molti racconti dei protagonisti, atleti paralimpici che hanno ottenuto grandi successi nello sport come Alex Zanardi, il nuotatore padovano Francesco Bettella e la basciatrice del sitting volley Nadia Bala. Sono attesi mille studenti da 5 regioni d'Italia. La cerimonia di apertura si svolgerà nell'aula magna del BO. Incontra lo spirito del nostro Ateneo. La libertà, i diritti sono nella storia i valori di questo Ateneo. L'abbiamo sempre declinati, continuiamo a declinarli e sulla inclusione e sui diritti di tutti i nostri studenti, tutte le persone che frequentano l'università, noi abbiamo investito un grande impegno. Grazie.